Il campionato è andato benissimo, però c'è stato dei problemi sull'arco perché non avevo fatto la messa a punto giusto. Avendo due archi per le Olimpiadi ho preso quello sbagliato, però la sensazione è stata buona negli ultimi scontri. L'importante è mettere a punto quello giusto per Londra per salire sul podio. Sta crescendo il movimento e si vede altri ragazzi nuovi sul campo, sicché dà anche soddisfazione per noi, un po' di cambiamento. Dopo vent'anni che tiro con l'arco è la prima volta che raggiungo questo obiettivo dell'Olimpiadi e spero di avere dei risultati buoni e di raggiungere le medaglie. Questa Olimpiadi sarà grandissima per me. Io il fatto di essere disabile non trovo nessuna difficoltà a combattere con atleti normodotati perché mi sento alla loro altezza. Anzi, ho un privilegio in più che ho più tempo per allenarmi e sicché raggiungere gli obiettivi. In bocca al lupo per Londra. Crefi. We share a moment that will last to the end. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face In a crowded place. Grazie a tutti